ogni tanto mi dimentico anche dove lavoro dove mi trovo perché ho troppe cose da fare prima o poi impazzirò allora vediamo vediamo se arriva qualche cliente interessante oggi sì 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 devo pulire questi vetri certo che quella scriteriata della mia collega non fa mai nulla in questo posto non lo so come se lavorassi solo qui vabbè lasciamo perdere tutte queste Valentino che mi circondano sono proprio nel mio posto ideale ecco forse arriva una ragazza sì avanti sì 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 ciao benvenuta piacere io sono Emily come va tutto bene? ottimo eh sì oggi è una giornata un po' così po' freddino sì sta iniziando a essere fresco la sera poi ecco sì siamo nel tardo pomeriggio ecco allora volevi dare un'occhiatina intanto sei già nostra cliente ah anche tu sei venuta tanto tempo fa eh me lo dicono un po' tutte le mie le mie clienti sì eh sì perché non lavoro non lavoro solo qui diciamo ecco un po' di sì 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 no però io adoro 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 fare la commessa vendere il contatto col pubblico certo sì sì allora io guarda se vuoi ti lascio dare un'occhiatina dimmi tu ci mancherebbe altro però nel caso io sono qua ti faccio anche vedere qualcosa hai a un motivo diciamo la tua visita oppure sei qui per diciamo fare una fare un semplice giretto guardare un po' oppure devi comprare qualcosa un regalo chiaro dimmi un po' sì ah ok eh sì succede sì 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 a volte capita anche a me di magari da nulla voler fare un restyling totale del mio guardarobo in questo caso di borse chiaramente certo 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 allora guarda io se vuoi ti faccio vedere diciamo dammi un pochettino i tuoi gusti poi magari te ne posso ti posso mostrare qualcosina ecco sì 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 in base diciamo a quelli che sono un po' le tendenze le mode del momento perfetto ti posso far vedere qualcosa di più idoneo diciamo per il giorno per la sera e tu mi dici cioè poi in base a quello che cerchi sì allora ecco parliamo dimmi innanzitutto mi stai dicendo borse piccole borse piccole sì diciamo che al momento la tendenza principale è proprio la borsetta piccola sì 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 diciamo che le borse quelle grandi mastodonti che non vanno più ora si usa molto portare la borsetta piccola poi magari ecco esatto vanno molto molto di moda le tote bag le conosci esatto sono quelle borse diciamo in tela sì esatto che vanno appunto a contenere tutto quello che durante il giorno ci serve però la borsa un po' gioiello sì 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 allora come i colori sì ok quindi più che altro tonalità neutre il metallo metallizzati ci piacciono però ecco ecco non hai molte idee diciamo così no vabbè ci sta se vuoi cambiare il tuo guarda roba diciamo che possiamo farlo insieme ci mancherebbe altro allora guarda io ti inizierei da un paio di borse giorno sì una un pochino più semplice e alcune un po' diverse i brand sono mix quindi poi dopo ci mettiamo a posto con i prezzi allora 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 guarda la prima che ti mostro è questa guarda eccola qua sì questa è una borsa in pelle è una borsa di questo magnifico 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 colore caramello diciamo è un marrone caldo un bel caramello si intona con tantissime tantissime cose è una classica diciamo scatolina rigida si allora diciamo che non è pesante da vuota no no ci mancherebbe però è rigida ha anche un po' il fondale così già strutturato si ti chiedo scusa per questo ditone con il cerotto purtroppo si ho avuto un piccolo 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 infortunio si esatto come vedi è bella strutturata ha ovviamente la tracollina guarda qua si è anche regolabile questa diciamo che è la lunghezza quella standard però più o meno questo è la lunghezza della tracolla arriva più o meno appunto al fianco e come decoro ha questo diciamo motivo che è leggermente tendente al country come stile sul dorato nella parte davanti nella patta davanti della borsa molto carina come apertura guarda è semplicemente così molto molto semplice con il bottoncino calamita adesso cerco di chiudertela ecco qua e all'interno è molto spaziosa per essere piccola come borsa con la zip esatto questa diciamo che crea quello spazio interno per contenere magari delle cosine un pochino più esatto preziosi e importanti ecco in generale la borsa secondo me è molto carina anche per la sera molto adatta a questa stagione autunnale cosa ne dici tipo piacere questa come stile? a me piace molto sì cioè trovo che sia molto molto versatile come modello questo sì ti posso dire che tra quelle da giorno piccoline per me è proprio il modello primario al momento che abbiamo in negozio quindi ho preferito fartela vedere subito ma passiamo anche ad altro eccoci qua sicuramente diversa dalla prima ma altrettanto comoda semplice e pratica ti mostro lei molto molto carina molto simpatica devo dire questa è una borsa sicuramente molto molto più semplice è una borsa innanzitutto in un materiale che non è affatto pelle è un materiale più sintetico chiaramente quindi anche come prezzo siamo di certo più inferiori molto leggera anche lei questa non ha la tracolla ma semplicemente questo spallaccio molto 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 carino è comodo comunque perché è bello ampio come cerchio che vedi si mette comodamente 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 a spalla questa ha un fondo anche san rigido quindi non sono forse diciamo ma non vanno molto ultimamente quelle più morbide ecco sì vanno molto queste un po' più strutturate esatto questa è molto leggera e anche questa ha la cerniera ovviamente non mi sono soffermata chiaramente perché l'ho dato un po' per scontato sulla cosa principale di questa borsa che è il colore questo verde lime fluo molto molto simpatico molto carino a me piace moltissimo proporre questi colori anche per le stagioni fredde perché comunque in abbinata al classico nero che o al denim che mettiamo per tutta la stagione comunque secondo me rabbivano un po' il look sì sì sono veramente veramente molto 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 carine anche questa appunto anche questa appunto all'interno è bella spaziosa assolutamente non so se riesco a fartelo vedere bene però è tutta foderata è davvero davvero carina qui qui chiaramente come prezzo siamo molto molto inferiori quindi possiamo valutarla intanto l'appoggio qua poi poi come altra borsa in realtà qui ci affacciamo già a un mondo che è anche più sera per la portata della borsa però te la faccio vedere perché è uno dei miei modelli preferiti in assoluto abbiamo lei qui qui abbiamo sicuramente un genere di borsa molto diverso un po' più diciamo di classe questa è una borsa tutta diciamo decorata con questa con questo dipinto davvero meravigliosa una borsa stampata ma ricamata si certo te la faccio vedere più vicino guarda davvero davvero meravigliosa ha questo appunto disegno stupendo che occupa tutta la parte davanti tutto il fondo che questa volta è leggermente strutturato ma molto molto meno si capisce dal fatto che si può diciamo toccare così è più morbido e naturalmente anche il retro dove prosegue tutto il nostro disegno e sì questo è un capolavoro è veramente una borsa capolavoro come come galvanica come colore abbiamo l'oro che appunto si trova in più punti nelle diciamo qua nella metalleria dell'aggancio dello spallaggio che è questo e lui anche questa non è compresa di tracolla e poi abbiamo questo dettaglio della chiusura che è veramente molto molto carino ovvero un lucchetto con questo meccanismo quindi si sfila il lucchetto oppure si inserisce si gira e si lascia così veramente veramente molto carina nel momento in cui si apre poi si tira sulla patta e all'interno abbiamo oltretutto la borsa divisa in due parti quindi c'è tutto il modo di dividere all'interno sì 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 tutto quello che ci dobbiamo portare dietro esatto come colore predominante abbiamo questo rosso all'interno è in pelle e invece su tutti diciamo i bordi abbiamo questo dettaglio in diciamo bitonato molto molto carino sì questa è proprio un pezzo da 90 quasi da collezione ti direi ovviamente qui siamo più alti chiaramente riguardo al prezzo dipende in cosa volevi investire di più se una borsa magari più giorno che poi in realtà io questa la indosso anche di sera tranquillamente però si porta anche benissimo come borsa daily però oppure se volevi andare più sulla sera questa è senza dubbio meravigliosa come ultima borsa diciamo così un po' giorno un po' sera comunque dai colori sempre un po' accesi ti mostro questa sempre per quanto riguarda le borse un po' gioiello ti faccio vedere lei che è questa borsa qua altrettanto meravigliosa in questo effetto trapuntato come se fosse un piccolo divanetto questa è davvero meravigliosa risulta molto più appunto una borsa gioiello perché chiaramente è piccolina rigidissima in questo in questo azzurro meraviglioso proprio ciano e ha questi scomparti all'interno la galvanica argento un argento tra l'altro molto chiaro e molto brillante ma i punti di interesse principali sono due il primo le perle come si può vedere le perle sono presenti nello spallaccio che questa volta è piccolino guarda faccio sempre la prova si indossa chiaramente a spalla però rimane veramente molto più piccola e poi abbiamo anche queste perle sempre sul davanti davvero molto molto carine altro punto di decoro è questo bis di rondini argento meravigliose sul davanti che poi è il simbolo del brand questa è molto molto diversa dalle altre perché appunto risulta davvero molto più un gioiello io però non le escluderei ecco anche se è più difficile me ne rendo conto allora a questo punto cara io ti posso passare a far vedere un paio di borsine per quanto riguarda la sera su queste volevi andare su qualcosa proprio di gioiello un po' più diciamo elegante oppure di più semplice ok ok sì quindi diciamo che non vai comunque vorresti avere qualcosa di non troppo prezioso ma magari da mettere da cambiare un pochino più spesso ok guarda se sei amante del metallo ti faccio vedere posso avere queste due che tra l'altro mi sono appena arrivate sono due borsine in pelle con la tracollina guarda più lunga perché comunque di sera sono molto carine anche portate a bandogliera ci mancherebbe molto molto morbide questa qua è quella argentata è una borsa sicuramente molto semplice molto morbida però fa il suo perché di cose dentro ce ne stanno e questa appunto è quella argentata che però l'oro lo ha lo stesso perché ha la catenina dorata e poi ha questo spallaccino gioiello tutto pieno di sbaroschini molto classici ma molto molto carini si appena veramente veramente a tutto molto molto carina altrimenti ho la sua versione ma dorata la catena è fondamentalmente uguale quindi così proprio d'oro come l'altra si esatto non sono invertite anche qui è dorata abbiamo in tutte e due la metallietta del brand e questa però appunto è quella dorata questo bell'oro non va piano ma è evidente molto molto carine guarda vedi sì esatto all'interno sono comunque abbastanza spaziose esatto questo spallaccio poi è più particolare perché ha anche delle degli sbaroschi bronzo rame che lo rendono ancora più particolare davvero molto 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 carina esatto queste sono più semplici però chiaramente sono borsine in pelle quindi comunque rimaniamo su un prezzo leggermente più alto su un valore un po' più alto altrimenti come borsine proprio semplicissime non so se vai magari spesso a ballare o cose del genere ti posso proporre queste che sono delle vere proprio un po' scendire semplicissime qui abbiamo anche il prezzo perché sono proprio molto molto tranquille con tutti questi strass questa è oro rosa hanno la loro zippa quindi si chiudono sono sicura che la tracollina molto molto tranquilla molto molto semplice però attirano molto l'attenzione che sono molto molto carine fanno look comunque ce lo sia così che così ovvero la versione argentata si la tracollina è all'interno vengono comunque vendute con la loro tracollina certo puoi provare tutto puoi stare quanto vuoi dai queste sono comunque due valide alternative qualora cercassi qualcosa di più semplice certo te la faccio qua guarda queste secondo me possono essere le migliori le migliori al momento allora come borsa giorno se cerchi qualcosa di semplice io ti consiglio la marrone perché vedrai che te la porterai sempre dietro è comodissima altrimenti anche la verde la trovo davvero molto molto carina simpatica per la sera dipende da te cara quelle in pelle sono un po' più raffinate queste sono più diciamo da battaglia però altrettanto carine esatto dai fai tutti i tuoi ragionamenti ci mancherebbe io nel mentre le sistemo perché chiaramente quelle che sceglierai te le darò nuove con l'emballaggio con la scatola ovviamente queste esatto prendi pure quelle che vuoi provare vai lì dove ci sono gli specchi io ti aspetto di qua se hai bisogno mi chiami poi andiamo in cassa va bene grazie mille per essere venuta ci vediamo dopo io intanto vado dall'altra cliente ok grazie mille ci vediamo dopo buone prove starai benissimo a dopo allora a dopo a dopo 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 topa 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 topa